caro amico toilettatore benvenuto in questo video io sono gabriele product specialist di toilettare e oggi ti mostrerò come potrai effettuare il pagamento del tuo ordine mediante la soluzione paga in tre rate tramite clarna o paypal eccoci qui nella pagina di checkout nella fattispecie abbiamo sfruttato la nostra promo attualmente attiva sul phone etna con la rottamazione di un attrezzo un phone o un soffiatore di qualsiasi tipologia che sia funzionante o meno quindi la possibilità di poter acquistare il nostro phone etna con 549 euro di sconto rottamazione che viene effettuato sul prezzo di listino a fronte di un acconto di 590 euro che viene versato quello che vedi qui già è un carrello preimpostato in quanto dopo aver dato l'acconto siamo noi stessi a inviarti il link per poter procedere con l'acquisto dilazionato tramite clarna o paypal come puoi vedere qui abbiamo già inserito il valore della rottamazione di 549 euro e l'ulteriore sconto di 590 che corrisponde all'acconto versato quindi al bonifico che hai già fatto in precedenza ti ricordo che con clarna puoi dilazionare da un importo da 35 euro fino a 1500 euro con la prima rata che viene presa tra virgolette il giorno stesso dell'ordine la seconda 30 giorni e la terza 60 giorni dalla data appunto dell'ordine con paypal invece sono 2000 ma la modalità è sempre la stessa quindi la prima rata subito la seconda 30 giorni e la terza a 60 giorni dalla data dell'ordine importante non premere questi tasti iniziali completa la procedura in quanto se hai già un account puoi accedere inserendo i tuoi dati oppure se non ce l'hai puoi crearne uno qui direttamente dalla pagina del carrello andiamo a scegliere la provincia e inseriamo il numero di telefono dopodiché clicchiamo vai alla spedizione spese di spedizione puoi lasciare flegato questo tasto quindi spese di spedizione omaggio paga ora e clicchi vai al pagamento avrai adesso questa schermata concernente al pagamento proviamo con clarna cliccare su rivedi l'ordine importante se hai un indirizzo di fatturazione che è diverso da quello di spedizione ti suggerisco di flegare questo tasto e segnarlo rivediamo l'ordine e questo è il riepilogo appunto con tutti i dati di contatto la spedizione il metodo della spedizione il pagamento e il totale se c'è qualcosa che ti sei accorto che è sbagliato puoi tranquillamente cliccare il pulsante cambia per poterlo modificare e ritornare su questa pagina andiamo su paga ora e siamo nella pagina già di clarna come vedi il totale è rimasto quello di 922 euro e 80 e hai una schermata che ti permette di effettuare due tipi di pagamenti quello che ti interessa è paga in tre rate senza interessi in quanto clarna ti permette anche di fare un bonifico diretto però focalizzandoci su questo ti fa vedere che oggi pagherai 307 euro e 60 tra 30 giorni la stessa cifra tra 60 giorni la medesima cifra dopodiché vai sul pulsante compra questo è il riepilogo dell'ordine che ti fa vedere appunto tutti i movimenti che stai facendo dopodiché i passaggi saranno guidati ti chiederà un inizio di verifica dei dati inizialmente quindi dovrai inserire il tuo numero di cellulare e ti arriverà un messaggio sempre nel cellulare con un codice di verifica per appunto andare a matchare tra virgolette a incrociare quelli che sono i dati per confermare che quella sia realmente la tua identità in alcuni casi potrebbe richiederti oltre al codice fiscale perché nel caso di paypal o clarna l'acquisto è nominale quindi ti andrà a chiedere il codice fiscale non la partita IVA dell'azienda ovviamente tu andrai a inserire tutti questi dati e potrebbe richiederti anche le foto dei documenti della carta di identità o della patente fatte queste foto la verifica se è andata a buon fine ti dirà appunto di attendere qualche secondo per vedere se l'ordine è andato a buon fine e la rateizzazione andrà in porto cosa succede quando invece la rateizzazione non va in porto la rateizzazione non può andare in porto se l'importo scelto per rateizzare è superiore a 1500 euro nel caso di clarna ti va a bloccare subito se hai dei precedenti diciamo non proprio piacevoli con le banche allora lui va a fare una verifica veloce per capire se può permettersi tra virgolette di autorizzare questa transazione o meno facendo questa verifica veloce inserendo anche i dati della carta che ti verranno richiesti appunto per associare la rateizzazione in questi tre mesi se vede che ci sono dei movimenti non proprio consoni per motivi legati alla privacy noi non possiamo saperli però comunque alcuni motivi possono essere appunto quelli di mancati pagamenti attuali prestiti in corso finanziamenti e robe varie ti viene segnalata subito la impossibilità di portare la rateizzazione a termine in quel caso comunque puoi chiedere maggiori informazioni al supporto di clarna perché appunto sono loro che potrebbero darti delle informazioni più specifiche in merito siamo ritornati alla pagina iniziale per fare la simulazione di quello che è con paypal invece ti ricordo che la rateizzazione è più alta quindi puoi finanziare fino a 2000 euro con la rateizzazione in tre mesi e per farlo ti basterà inserire tutti i dati che nel nostro caso sono già inseriti andiamo alla spedizione andiamo a rifare i passaggi quindi spedizione a maggio gratis andiamo nel pagamento andiamo a selezionare paypal andiamo a rivedere l'ordine cliccando il pulsante paga con paypal ti farà accedere al tuo account paypal e ti apparirà una schermata in cui ti viene mostrata la possibilità di saldare interamente quella cifra con paypal in un'unica soluzione oppure accanto con un pulsantino blu paga in tre rate da x euro che in questo caso saranno appunto 307,60 sempre 307 euro subito, 307,60 a 30 giorni, 307,60 a 60 giorni se non hai un account paypal puoi crearlo in maniera totalmente gratuita vai ad associare la carta per effettuare gli acquisti tramite paypal e di conseguenza poi dovrebbe apparirti appunto questa possibilità di rateizzazione o meno qualora tu avessi un account paypal o lo hai creato appunto in questo momento e non dovesse apparire la possibilità di pagare in tre rate con paypal il ragionamento è uguale a quello fatto con clarna in precedenza cioè viene fatta una verifica per capire se quella carta può essere abilitata a questa tipologia di pagamenti perché a volte anche la carta può non essere abilitata per degli acquisti rateizzati o se magari ci sono dei problemi precedenti sempre legati a quel conto può incidere anche il fatto che tu non abbia mai fatto delle rateizzazioni questo può incidere perché appunto non hai uno storico che può essere verificato e tracciato e quindi di conseguenza tra virgolette non si fidano in ogni caso però puoi sempre rivolgerti al servizio assistenza dei due enti per capire come puoi fare eventualmente per risolvere bene ti ricordo 1500 euro con clarna fino a 2000 euro con paypal in caso di domande o eventuali dubbi rimaniamo a tua disposizione per risolverli ciao 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 ciao